Sì, è sempre una bella soddisfazione delle persone. Per i volontari il clima è sempre bello, è molto collaborativo, ma questo vale per tutte le aree, c'è questo filo conduttore tra i volontari che è fantastico. Per quello che vedo qui, ho girato anche il festival in queste ore libere, in questi giorni, nelle ore libere che ho avuto, ma la percezione è sempre bella. Insomma, poi qui la maggior parte è quello appenzionato che è già, o comunque che ritorna e sa già che si troverà bene. La qualità dei prodotti è sicuramente la prima cosa e poi lo spirito di accoglienza, anche l'ambientazione così particolare ha il suo fascino in questi giorni del festival.